Oggi è l'ultimo giorno di incarico del commissario Francesco Figliuolo. Posso sbagliarmi ma non sento in giro molta riconoscenza. Certo c'è la guerra in Ucraina che assorbe la nostra attenzione ma temo sarebbe accaduto. Comunque la smemoratezza è da sempre una caratteristica nazionale come la mancanza di previdenza. In altre parole siamo un po' deboli sul passato e un po' distratti sul futuro. La nostra specialità è il presente litigioso ultimamente. La campagna vaccinale è stato un successo indiscutibile di chi l'ha concepita, di chi l'ha organizzata, di chi ha ascoltato scienza ed esperienza. L'Italia è stata capace di una risposta collettiva ammirevole. Non ascoltate, chi urla il contrario. Molte di queste persone oggi inneggiano a Vladimir Putin come al difensore della libertà individuale. Voi capite che non vale la pena perderci tempo. Il commissario Figliuolo è un militare. Quello voleva diventare da quando era un ragazzo a potenza, mi ha raccontato. È un generale degli alpini. È la prova di quanto le forze armate siano utili in una democrazia sana. Servire e proteggere può sembrare un motto impolverato e invece è esattamente ciò che gli si chiede e quanto loro devono e vogliono fare. La nazione che si entusiasma per le sfilate degli alpini e li considera giustamente persone serie non può dimenticare che sono dei soldati quando si tratta di trovare i soldi per la difesa. Nel giorno del saluto ringraziamo il commissario e quanti hanno lavorato con lui, militari e civili. Non dimentichiamoli troppo in fretta. Abbiamo la guerra le porte e i profughi in casa, non dobbiamo disunirci. La rimozione non è una cura, è una anestesia.